Con la Salernitana e che quindi vi ha portato qui alla corte rossolente di Cristiano Lucaretti. Sicuramente è l'ambizione della società. Sono venuto a dare la comunità mia. Tanti mi hanno parlato bene di questa società, conosco anche tanti ragazzi. Per cui non è stato difficile per nascere questa società. Sono contento di essere qui. Voglio trovare ancora tante soddisfazioni. Mi indica il fatto che non piaccia Francesco benvenuto. Hai vinto la Serie B non praticamente adesso. Siccome nell'ambiente del Nara si dice che è stato fatto un buon campionato però ha mancato qualcosa per andare a playoff e per azzanare le posizioni di Atkins. Qual è l'ingrediente segreto della Serie B? Sicuramente la continuità dei risultati. Perché si sa che la Serie B è un campionato difficile. Giustano un po' di più. Però questa squadra secondo me ha grossi valori. E sta a noi metterli in pratica. Perché come ho detto prima la continuità dei risultati è fondamentale. perché si affronteranno squadre importanti. E cercheremo di fare un gran campionato. Di migliorare la classifica. che è un'attività. E' un'attività. E' un'attività. E' un'attività. delle richieste dell'allenatore. Come ho detto prima. E' una squadra che ha qualità in portati. Cercherò di mettere a disposizione di dedicare la mia esperienza e la profissionalità. E' un'attività. E' un'attività. di effetti. Eventuali commemoratori. Per l'attività. E' un'attività. Ogni. Dopo. Per l'attività.